Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, io sono Eleonora e oggi andremo a provare insieme i prodotti make-up del brand di Chiara Ferragni Tadà! Ecco qui infatti le due PR box che ho ricevuto da all'incirca novembre mi pare, quindi la prima uscita del brand ad oggi perché è uscita anche la collezione primaverile a parte che mi piacciono moltissimo le due box, i due colori, giallo e rosa, sapete che io penso che siano molto bene insieme e infatti oggi tutto lo sfondo, tutto, è tutto dedicato a queste due box la prima ha fatto un po' una brutta fine perché io avevo registrato il video dove provavo i prodotti questo era il make-up che era uscito alla fine, soltanto che in quella settimana mi si è rotto il computer e quindi avevo questo video che non potevo editare, appena poi sono riuscita di nuovo ad avere un computer avevo tantissimi altri lavori e calendari dell'avvento da fare il fatto sta che è rimasto lì ed è diventato vecchio e non l'ho più pubblicato quindi alla fine ho pensato vabbè ne approfitto e proviamo insieme tutti i prodotti di Chiara Ferragni Make-up anche perché comunque quelli usciti nella prima collezione non sono un'edizione limitata quindi oggi li proviamo insieme, io alcuni li ho già provati, ho già un'opinione bella formata e quindi oggi la condivido con voi, ci trucchiamo e ci prepariamo l'unica cosa è che utilizzerò sugli occhi la nuova palette perché nel secondo drop c'è una palettina anzi ce ne sono tre, a me ne è stata inviata una e si chiama Milano e le altre due se non sbaglio Los Angeles... Parigi... andiamo a fare skin care e l'andiamo a fare con un brand di skin care coreana che è Yepoda ha cambiato anche il packaging, vi faccio vedere ad esempio il cambio logo questo è come era prima e questo è come adesso, onestamente mi piace molto di più come è adesso è un brand che ho iniziato a testare da subito quando è stato lanciato e ho amato veramente tanto la prova ne è l'utilizzo smodato veramente che ne ho fatto anche questa che è la schiuma detergente, questa è la seconda bottiglia la crema viso, mi sono piaciuti veramente tanti prodotti ci sono più aspetti che mi sono piaciuti di questo brand uno è il fatto che ad esempio al di sotto dei prodotti trovate già la loro scadenza quindi sapete che sono molto attenta alle scadenze dei prodotti soprattutto skin care la cosa che secondo me apprezzerete di più è la semplicità di utilizzo perché il mondo della skin care non è un mondo semplice e a volte può spaventare visto che si vedono routine di 10, 15 ma anche solo 5 step per una persona che a sento si lava il viso perché so che ci sono, lo so, non vi preoccupate non sai bene come inserirti, non sai quali step devi fare questi sono semplicissimi perché ogni prodotto ha questa lista come vedete con diciamo degli step dal numero 1 al numero 6 il cerchietto che vedete si riferisce al prodotto che state utilizzando io trovo che sia una genialata e sia veramente una cosa super semplice per chi non sa da dove partire, non sa quali prodotti devo utilizzare, in quale ordine e inoltre ci hanno dato anche uno sconto molto alto che è delle di 40 quindi potete usarlo per avere il 40% su tutti i prodotti se siete in cerca di qualche nuovo prodotto skin care o se già li avete provati e volete ricomprarli io vi direi di approfittarne perché appunto il 40% è parecchio alto quello che utilizzo di solito come primo è il The Calm Balm che è appunto un balsamo struccante se vedete le mie direttine skin care su Instagram le faccio spesso la sera e quindi avrete visto sicuramente questo prodotto nelle mie dirette è un balsamo che letteralmente si scioglie in mano e diventa diciamo un olio struccante si passa sul viso e poi si va al secondo step quindi è la detersione questa qui schiumogena ed è letteralmente una mousse vedete rossa perché poi esce rosa molto carina anche esteticamente i pack sono in vetro tra l'altro io non vado a fare la doppia detersione adesso ma vado direttamente a lavare il viso con la mousse che è The Bubble Double e torno poi per farci una maschera insieme eccomi qua con il viso risciacquato c'è anche scritto proprio come si usa il prodotto qui l'esempio nella maschera che stiamo per andare ad utilizzare che si chiama The Sea Tox che mi piace tantissimo ottima per le pelli grasse o miste grasse c'è scritto mi raccomando la pelle deve essere pulita e fai la doppia detersione se necessario applica la maschera utilizzando il pennellino in dotazione questo qui io lo vado ad applicare in questa zona il naso e anche queste zone qui poi dipende ad esempio adesso ho anche dei brufolini qui e quindi vado dove ho dei brufoli e poi la parte del mento tra l'altro c'è anche scritto che azione ha che caratteristiche ha in questo caso illuminante opacizzante e desossificante dice di lasciarla in posa per 15 minuti e poi di rimuoverla con un panno ed acqua calda quindi io utilizzo questo qui che è sempre di Iepoda utilizzare questa maschera che è una maschera all'argilla una massimo due volte a settimana prima di altri trattamenti adesso io la lascio in posa per 15 minuti e ci rivediamo tra poco ok passati i 15 minuti ho bagnato questo con acqua tiepida e vado piano piano gentilmente a rimuovere la maschera ho voluto mettere uno specifico questa qui insieme a voi perché è veramente il mio prodotto preferito di Iepoda in assoluto utilizzo questo che è il mio secondo preferito insieme alla maschera che si chiama The Mist Have mi piace anche il gioco di parole no The Must Have è il prodotto che devi avere ma siccome è una face mist The Mist Have avete capito? l'ho mangiato la scorsa estate questo è parte dello step 3 c'è scritto però io lo utilizzo anche in generale quando sento un po' la pelle disidratata durante l'estate per andare a dare veramente un tocco di idratazione in più dentro acido ialluronico e lavanda che si sente anche leggermente nella profumazione si assorbe abbastanza velocemente e adesso vado a mettere la crema che è l'ultimo step prima poi di iniziare il nostro make up all'interno c'è olio di camellia burro di karité olio di jojoba e poi la cica è un ingrediente molto efficace contro acne rossore eczema e accelera il processo di guarigione accelera il processo di cicatrizzazione adesso io passerei direttamente al make up sicuramente dobbiamo fare una parte fuori camera perché ad esempio chiara ferrani non ha ancora lanciato fondotinta correttore insomma tutto quello che serve per una full full face però c'è un prodotto che devo necessariamente utilizzare prima di andare a mettere il fondo che lo vado a prendere dal primo drop qua c'è il mistero ragazzi mi dovete aiutare a capire secondo voi questi biglietti li scrive davvero chiara ferrani o è una persona del suo team perché a me piace sognare a me sembra la stessa scrittura sia nel primo che nel secondo nel primo c'era scritto ciao leonora a te la mia prima collezione make up non vedo l'ora di scoprire il look che realizzerai chiara exo exo e poi nell'altro ciao leonora spero mi rai la mia nuova collezione make up exo exo chiara come vedete la scrittura sembra simile a parte vabbè qua il penarello da scarico però la scrittura è quella fatemi sapere votate qui sotto nei commenti se secondo voi si è chiara oppure no non è chiara anche se io proverò a sperarci fino alla fine in questo primo drop che cosa avevamo e che cosa abbiamo un blush illuminante che andiamo a metterci dopo una palette occhi con questi colori un mix tra neutri e colorati poi abbiamo un rossetto questo è il numero 01 all dead glitter perché ha tutti questi glitter quindi è un rosso intenso con dei glitter poi abbiamo mascara per ciglia e mascara per sopracciglia proprio questo è il prodotto che io devo assolutamente utilizzare prima di fondotinta io ho delle sopracciglia veramente dure e soprattutto quando non sono fresche di laminazione difficilmente si tengono verso l'alto comunque in posa e questo qui di Chiara Ferragni è uno di quelli che mi piace molto ha questo tipo di scovolino un po' tipo mascara classico e la formula è molto bella perché devo applicarlo prima del fondotinta perché se lo vado ad applicare dopo mi va a rovinare tutta la parte qua intorno del fondotinta questo qui rispetto ad altri che sono più collosi è più liquido però dopo che li date un attimino per asciugarsi le sentite belle belle fissate adesso diamo una sbirciata al drop numero 2 ovvero questo qui primaverile come potete vedere comunque il packaging di questi prodotti è lineare con il packaging del primo drop abbiamo qui tre lip balm questa mini palettina che è quella che utilizzeremo oggi un illuminante in crema stick e poi tre gloss questa è la mini palettina milano composta di sei ombretti sono tre completamente opachi monte napoleone navigli e sempione e tre invece sono tra shimmer glitterini galleria la scala e brera i tre matte mi sembrano molto belli quello forse che ad occhio mi sembra meno scrivente è sempione invece questi tre sono molto diversi tra loro il mio preferito è brera è super luminoso e lo voglio assolutamente utilizzare galleria è quello che mi piace meno si ha i glitter però li senti più ruvidi e poi c'è la scala che è un metallizzato cremoso però sbocciato come avete visto sembra che esca fuori poi una parte un po' calda li vado ad utilizzare con un primer sotto e metto questo qui di mulac anche per andare a togliere un po' le discromie allora parto con un po' di monte napoleone nella parte centrale della piega la sfumo verso l'esterno e poi vado a mettere sopra sempione per non averlo troppo freddo messo sotto monte napoleone perché comunque il vestito che indosserò stasera è un fucsia sì però molto acceso prendo adesso sempione e navigli quindi questo mix di marrone e viola e sfumo verso l'esterno ormai diciamo che di default mi viene proprio di rendere l'occhio più allungato in generale pensavo che fossero un po' più scuri sugli occhi invece li vedo veramente delicati andiamo a tagliare la piega prendo un correttore in questo caso questo è quello di Nabla andiamo sopra adesso con Brera volendola fare sfumata nella parte qui finale riprendo i colori esterni e li sfumo dall'esterno verso l'interno in modo tale da avere questo stacco di cut crease effettivamente solo in questa parte qui interna e poi qua tutto bello sfumato direi che l'effetto cut crease è venuto proprio alla perfezione faccio l'altro occhio e in realtà faccio anche la base e torno da voi eccomi qui base fatta gli occhi mi piacciono molto ti devo dire che mi è piaciuto molto il colore Brera lo trovo straluminoso secondo me è il più bello tra i metallizzati nella palette ho fatto vabbè anche sopracciglia eccetera messo un po' di bronzer ma adesso voglio andare a mettere il blush che è un blush illuminante questo colore è il numero 01 blush me up che comunque penso sia l'unico uscito finora ed è un pescato molto bella la cosa dell'incisione del logo questo qui l'ho già utilizzato lo trovo molto carino e soprattutto non esageratamente luminoso perché non mi piacciono i blush troppo luminosi in polvere perché trovo che vadano ad ingrandire un po' la zona dei pori metto poco poco anche qui sul ponte del naso pochissimo e potete andare anche a stratificarlo un bel po' perché non è tanto scrivente da subito adesso prodotto che invece non ho mai provato il light bomb che è questo blushing stick ho solo paura che sia troppo scuro perché questo colore mi sembra chiarissimo metodo di applicazione non so se andare direttamente perché ho paura che faccia strisciata in questo modo diciamo che direttamente lo posso andare a mettere sul naso lo vado a mettere qua ne metto parecchio sulla mano e poi con lato pulito di una spugnetta lo intingo e lo metto qua mi sembra che abbia pochissimo colore quindi non c'è il rischio che si veda tanto su di me però mi sembra molto effetto balm questo a differenza del blush invece un po' me li vedo i pori più evidenti e mi vedo anche un sacco di glitterini è un po' sticky cioè se io prendessi tipo un brillantino e me lo mettessi ecco per farvi capire capito cioè rimane non penso che mi piaccia questo tipo di formula del primo drop non mi fece impazzire il mascara questo è lo scovolino è nell'astomero non ha le setole in fibre ma in silicone e va bene ad acchiappare le ciglia anche a dividerle già da subito si può vedere cioè è molto delicato molto io lo vedo anche molto Chiara Ferrami cioè vedo che rispecchia quello che poi è lei e la sua immagine però cioè su di me è molto poco prendo uno di miei mascara preferiti sempre con lo scovolino in elastomero eccetera che è il black mamba lo do a mettere di qua posso fare questa cosa tanto vado a mettere le ciglia finte dopo non so se è una mia impressione sembra proprio che abbia più ciglia di qua questo di Chiara Ferrami secondo me ha caratteristiche più di definizione e allungamento ho un bel po' di brillantini e siccome il vestito di stasera è fucsia non so se mettere direttamente fucsia oppure fucsia olografici forse fucsia olografici mi danno un po' più di di luce vado a mettere prima le ciglia e poi i brillantini ci penso vediamo cosa ho scelto ok eccomi qui il make up aggiornato alla fine ho messo i brillantini fucsia olografici e qui ho messo due piccoli piccoli brillantini tipo trasparenti volevo adesso andare ad aggiungere un illuminante questo è di Fenty Beauty praticamente sono tutti glitter bianchi argento lo volevo mettere qua proprio perché stasera palla da discoteca e adesso passo ai prodotti labbra che sono gli unici che mancano qui abbiamo tre lip balm che hanno lo stesso packaging del rossetto rosso uscito nel primo drop mi piace tantissimo questa parte anche con il logo nella zona dell'apertura veramente carina ed è oro rosa allora abbiamo questo che è il numero 01 so yummy ed è un corallo che ovviamente adesso starebbe malissimo però il rilascio di colore è veramente minimo non apprezzo tanto i lip balm che si chiamano lip balm ma che poi in realtà sono più dei rossetti 02 goodnight kiss non si vede perché è completamente trasparente e questo invece è super fucsia quindi lo volevo troppo provare è il numero 03 trendsetter io non credo anche esatto che questo anche abbia poco rilascio colore ancora meno del corallo vediamo il 3 sulle labbra ok si aggrappa un po' alle zone secche e sulle labbra si vede tanto si vede tanto questo rosino andiamo a mettere i gloss abbiamo 01 bossy babe 02 hey sweetie e 03 baciami stupido il primo come vedete è molto più sheer e gli altri due sono più che dei gloss dei rossetti liquidi non opachi il primo lo trovo delizioso vediamo se hanno un profumo sì oddio il numero 1 ha quel profumo che mi ricorda un gloss che usavo da piccola questo è dolcissimo questo mi piace tantissimo andiamo a vedere però il nude baciami stupido oh ok già so che non mi piacerà in questo look ma già ho capito questo dove mi piace matita marroncina fuori ben sfumata all'interno e questa al centro ce la metto una matita questo è un kit di color pop ce ne metto una che è marrone rosato così che può stare anche con il look di solito si mette prima la matita più o meno l'idea ve la do ma c'è troppo colore chiaro io ne metterei ancora di meno però era giusto per farvi capire perché in realtà la mia scelta ricade sul numero 1 metto prima questo qua il balsamo idratante e poi vado a mettere sopra lui questo quindi è il risultato finale con tutti i prodotti di Chiara Ferragni brand il makeup mi piace molto fatemi sapere che cosa ne pensate ci sono dei prodotti che su di me non funzionano ad esempio il mascara sulle mie ciglia e l'illuminante in stick rispetto a quello che mi piace in generale per il resto invece parlando dei miei preferiti allora per il gloss devo provarlo perché ancora è presto le palette mi hanno fatto entrambe una buona impressione direi che se vi piace lo schema colori assolutamente prendetele l'unica cosa che non mi piace delle palette rispetto al resto è il packaging il resto del pack è veramente troppo troppo bello con la parte lucida fuori che non è ruvida invece qui anche la palettina piccola è ruvida amo tantissimo il gel per sopracciglia vedete è passato tanto tempo da quando abbiamo iniziato a fare questo video le mie sopracciglia al momento non hanno laminazione eppure sono tenute belle in alto non essendo cemento armato quindi il mio prodotto preferito in assoluto tra tutti quelli usciti di Chiara Ferragni collection makeup brand è il prodotto per le sopracciglia voi che cosa ne pensate avete mai provato i prodotti di Chiara Ferragni vi hanno deluso vi hanno invece fatti innamorare hanno superato le vostre aspettative qualcosa che è diventato il vostro prodotto preferito fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre e lasciate un like se volete vedere nuovi prodotti provati per anche la playlist dei trucchi fashion vi ricordo che abbiamo il codice sconto di Epoda se volete usufruirne per acquistare un po' di skin care e fare il rifornimento che è delle di 40 trovate tutto in un infobox e vi mando un mega bacio vi aspetto su Instagram TikTok e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video bye ladies see you soon ciao ciao Grazie a tutti.